Grazie Presidente, non attivano il video per problemi di connessione. Consegno il voto del Movimento 5 Stelle che sarà un voto favorevole su questa delibera, come già stato detto anche da altri colleghi. Abbiamo esaminato in commissione questa delibera, certamente il rilancio e l'adeguamento della Fondazione Mondo Digitale in relazione anche a delle finalità che vedo certamente non possono che essere condivise rispetto a quelli che sono anche dei temi che la città, ma comunque tutte le città oggi, si trovano ad affrontare, uno tra tutti appunto quello della cittadinanza digitale e della democrazia digitale. Sicuramente c'è la necessità di costruire e quindi anche nelle prossime settimane, insomma fino comunque alla fine della consigliatura, anche a dare una prospettiva comunque di rapporto con ovviamente tutti i soggetti e tutti gli attori che possono rafforzare quelli che sono gli obiettivi e gli interessi pubblici appunto dell'amministrazione e certamente quindi anche in relazione agli indirizzi e come è già stato insomma già detto sono stati affrontati e comunque anche sviluppati, non mancherà diciamo da questo punto di vista anche come Presidente di poter comunque riesaminarli e anche procedere insomma con successivi approfondimenti, con successivi atti eventuali insomma per poterli portare avanti. C'era sicuramente il tema degli strumenti di partecipazione e consultazione anche digitale e del tema del digital divide che comunque poi alla fine spesso si parla di partecipazione digitale ma dobbiamo sempre ricordarci che c'è una disuguaglianza digitale importante che ovviamente va colmata e che sicuramente in parte l'amministrazione, in parte anche in realtà come la fondazione del mondo digitale può certamente aiutare diciamo a raggiungere questo tipo di attività, finalità che comunque sono all'interno già dello statuto e che quindi come dire rafforzano questa costruzione. Ovvio che bisogna dare una continuità amministrativa ma soprattutto anche una continuità progettuale nel corso diciamo delle annualità successive perché poi quando ci si pone come dire come amministrazione nel costruire dei progetti anche con altre realtà è sempre bene diciamo avere appunto una continuità amministrativa, una coerenza diciamo negli anni che consente poi anche di poter sviluppare con efficacia ed efficienza, economicità questo tipo di azioni. Quindi rassegno insomma il voto favorevole da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle su questa proposta di Libere. Ringrazio anche le altre insomma colleghe, altre forze politiche che hanno comunque collaborato nella discussione e nel dibattito che sicuramente non potrà che proseguire su questo tema certamente anche nelle prossime settimane. Grazie.